ebbene ben ritrovati parliamo di calcio di eccellenza la quattro dicesima giornata andiamo a vedere le gare di nostro interesse appunto che riguardano le nostre formazioni ricordiamo che la classifica vede il storico mandare con 36 punti e almeno 11 c'è la sd data di mister bella mio quanto sono viaggio 19 della scena anche la 19 i tricalcio 16 chiudere alla cassiva di questo girone di cover con sei punti quindi il mondo san biaggio se ne andrà alla volta del campo dell'atletico torrenova in settimana c'è stato il taglio del giocatore appunto attaccante di colore quindi si dovrà chiaramente presentare con una rosa un attacco un pochino riformato vedremo insomma come andrà a finire questa casa sicuramente insomma il mondo san biaggio è abituato a grandi prestazioni sia in casa che in trasferta per quello che riguarda invece la formazione dell'itri calcio proviene da una vittoria esterna sicuramente importante quindi dovrà confermarsi in casa contro una fonte meravigliosa anche l'itri calcio nel mercato di dicembre ha integrato la rosa con un attaccante ma chiaramente è il resto della squadra che deve funzionare cercare di vari punti che servono per garantirsi la salvezza matematica per quello che riguarda il terricino calcio stesso discorso viene da una vittoria esterna anche se nel commento tecnico del tecnico pennarella appunto c'è stato un cambio di passo fra primo e secondo tempo quindi dovrà garantirsi ancora una vittoria in casa contro città di ragni domenica mattina appunto al comunale di terricino probabilmente anche qui si giocherà a porte chiuse in ultimo le ultime due gare del golf insieme a Formia in casa contro il Villalba mai rascoltato il tecnico Gennaro Pernice nell'intervista settimanale e il Gaetta fuori casa contro l'Audacio un bel big match e qui avete ascoltato la voce della giovane appunto rientrante Barba quindi vedremo insomma questa domenica che cosa ci regalerà e qui ci regaliamo